Appare quasi superfluo dire che la gara del Montevarchi avrà pesanti strascichi a livello disciplinare. Il pubblico infuriato che nel dopogara si è riversato a contestare l'arbitraggio a ridosso degli spogliatoi e l'uscita obbligata dall'impianto del direttore di gara avvenuta solo sotto scorta a tarda serata giovedì nel comunicato del giudice sportivo avrà ripercussioni che partono da una pesante multa fino alla possibile squalifica del rettangolo di gara come insegnano i precedenti sull'argomento. Intanto ovviamente a mente fredda la dirigenza e in riunione questa sera stessa dovrebbe ritirare le dimissioni e l'ipotesi di disertare la trasferta di Campi Bisenzio o di mandare la Juniores è scongiurata. Resta però in casa Quilotta l'idea di essere stati defraudati non solo in questo singolo caso ma globalmente visto che cresce anche il rammarico dopo l'analisi degli altri risultati del girone con nessuno vincente tra le prime cinque. In attesa dunque di giovedì l'unica opzione è quella di ricompattare l'intero ambiente per il raggiungimento di una migliore posizione possibile nei playoff con questo obiettivo che rimane comunque ancora a tre punti di distacco.